Non è giusto che c'è il contratto e io l'ho fermato e sul contratto c'è scritto che entrambe le parti devono essere d'accordo per far sì che il contratto venga cambiato o possa essere cambiato. Guardi il cielo, non devi guardare il cielo, vuole che le porti io il contratto? Posso dire comunque che lei signora M è un pessimo commerciante, cerchi di fare il suo lavoro meglio e sia più preciso, ok? Però, comunque sia, ribadisco, lavoro e lavoro, attualmente è un lavoro, e signora M ha dovunque al potere, lei signora M, faccele come, le cose come devono essere fatte, non faccia altri, altri casini. Signora Vic ha una stimana per coprire i diamanti che ha speso, comunque, perché andavano al regno. Maresciallo, maresciallo, qual è la pena per aver picchiato il re? Qual è la pena per aver picchiato il re? Sì, sì. Oddio, boh, mezza stack di diamante per averlo toccato, penso. Ok, lo do, andiamo a casa mia, lo pago. No. 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 Grazie a tutti.